Shelters and Libraries è una mostra che mette in sottosservazione le dinamiche della creazione culturale in occidente. La metafora del rifugio diventa la mappa attraverso la quale i tre artisti coinvolti questionano su come il mondo euro-americano rimane attaccato alle proprie forme, alle proprie costruzioni identitarie, mentre per fortuna arrivano i barbari a mantenere viva e a salvare la cultura. Grazie a tutti! ready get 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 try try get ready ready get get ready get try ready get ready ready get ready get get ready